Il loro buco è là, vedi vanno molto più veloci qua, ma guarda come stanno girando, perché girano così? No, secondo me non si sono messe d'accordo con le davanti e con le dietro, no, figurati, le formiche sono avanti a tutti, Guarda queste, dove stanno andando queste? Ma vedi sono migliaia, vedi adesso lo porto là nel buco, ma guarda quelle che ritengono la zampa, mamma veramente era orribile, avete fatto bene a manzarvelo, ok lì pulito tutto, si lo sto stendendo, Ma come viaggiano, poi sono anche pochi a tirarlo su, si infatti, se conti, guarda, madonna ma guarda quelle che tengono le zampe, guarda che assurdo, e quelle che vanno sopra che si vanno portare? Sono quelle che stanno cercando di, si, guarda le zampe, che glielo ti, madonna mia, questo ragno fa schifo, forte, guarda la faccia del ragno, Svegli ci sono gli alimenti per le mamme, ahhh, sì, una macina, ahhh, sì, c'è una macina,